Il virus mette in allarme l'area metropolitana di Pescara. Oggi incontro tra il prefetto e il sindaco Carlo Masci per elaborare nuove misure di contenimento dei contagi, oltre a quella già disposta dal primo cittadino di chiudere tutte le scuole. Non si poteva fare altrimenti perché quando la ASL ci comunica che in questi giorni i contagi si stanno espandendo in maniera esponenziale proprio nelle scuole di infanzia, le elementari e le medie e che la percentuale di bambini contagiati da 3 a 12 anni è passata dal 4% al 14% in tre giorni, bisogna prendere delle decisioni drastiche. Al centro delle polemiche gli assembramenti davanti a barre e locali, con la chiusura imposta diversi esercizi che non avrebbero rispettato le normative. Noi abbiamo il dovere di richiamare un po' tutti noi stessi al rispetto delle norme e quando chiudiamo un locale o quando applichiamo una sanzione lo facciamo sempre a malincuore perché il poliziotto non deve fare sanzioni covid o chiudere i locali, però in questo momento è una necessità. Lo dico anche ai miei funzionari, quando facciamo le riunioni dobbiamo stare sempre distanziati, i giovani stanno soffrendo più di noi perché noi abbiamo un lavoro, abbiamo una posizione economica, abbiamo una posizione sociale. I giovani sono stati privati della libertà, privati della cultura, della scuola, ma non perché è una necessità. Quindi dobbiamo essere molto tolleranti nei loro confronti e soprattutto indicargli una strada, indicargli una via. E' un dato di fatto che a Pescara il sabato e la domenica si radunano persone che vengono da tutta la provincia, da tutta la regione, c'è una situazione sicuramente difficile. Dobbiamo evitare gli assembramenti in ogni modo, dobbiamo ricordare a tutti le tre regole fondamentali che sono le mascherine, la pulizia e il distanziamento. Certo è che il risultato non si ottiene chiudendo una piazza o un'altra perché naturalmente le persone poi si assemblano in altre zone. Dobbiamo gestire la questione con il buon senso, con l'equilibrio che è necessario da parte di tutti.